Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi Fulminia. Torniamo a guardare i titoli del principale paniere italiano, il Fuzzimib, questi titoli che compongono il paniere, miglior titolo della settimana Nexi più 6,58, peggior titolo della settimana Ferrari, meno 2,77. Iniziamo ad analizzare il titolo Fintech, questo è un grafico giornaliero, partiamo da ottobre 2020 con il massimo storico, questa è la situazione, nell'ultima settimana il titolo è salito molto, lasciando addirittura aperto un gap, questo perché nella conference call a seguito del trimestrale il CEO di Nexi ha confermato che il trend di crescita dei pagamenti digitali è ampiamente migliorato nello scorso anno, l'incremento di crescita viaggiava intorno all'1% o poco più prima della pandemia e mentre a seguito del Covid si è accelerato ad un ritmo doppio e ci si è posizionati tra un 2 e un 3% di crescita, nonostante l'Italia sia ancora un paese che gira con molto contante, vi è stato un forte impulso sui pagamenti elettronici e questo chiaramente non potrà che favorire Nexi per il prossimo futuro. Andando a guardare il grafico, come detto ormai siamo in prossimità dei 18 Euro e il massimo storico è stato 18,19, quindi in questo momento attendiamo di vedere A se va a toccare il massimo storico e da qui ritraccerà un pochettino, B se il titolo inizierà invece a ritracciare per andare prima a chiudere il gap, dovesse andare a chiudere questo gap in quota 16,68 e magari fare base a 16,50 potrebbe essere un buon livello da cui comprare per una eventuale ripartenza. Titolo peggiore della settimana abbiamo detto è stato Ferrari, Ferrari ha finalmente comunicato il nome del suo prossimo amministratore delegato, sarà digna dal primo settembre dopo una vita in STM e dopo aver registrato a suo nome un congro numero di brevetti e quindi Ferrari si porta in casa un tecnico. Graficamente il titolo Ferrari come vedete si trova tra due livelli importanti, tra due resistenze molto ravvicinate a cavallo dei 182 punti, il massimo come vedete è appena sopra i 190 e invece vi è un buon livello di supporto toccato più volte in area 171,50 circa. A questo punto pertanto vediamo se a seguito del più classico dei sell on news sulla notizia del nuovo amministratore delegato, ma in concomitanza anche di un livello come vedete di resistenza, quindi vedremo se rifarà base intorno ai 171,50 e potrebbe essere un buon livello di ingresso o se invece tenderà nuovamente a riportarsi verso l'alto e allora a quel punto solo il break dei doppio livello di resistenza potrebbe dare un nuovo segnale di acquisto. Vorremmo ricordarvi a tutti che sta tornando la formazione MacTrader, a Rimini l'11 e il 12 settembre torneremo ad illustrarvi quello che è il metodo MacTrader. Se siete curiosi, se volete effettivamente avere maggiori notizie, se avete fino adesso titubato, questa potrebbe essere la vostra occasione. Qualsiasi informazione scriveteci a info.mactrader.it, saremo ben felici di darvi tutte le informazioni che volete relativamente al corso che terremo a Rimini il prossimo 11 e 12 settembre. Con questo è tutto e vi auguriamo una buona giornata.